Chi è il genio? Chi è l'uomo creativo? L'uomo creativo è certamente un uomo in grado di superare il passato per progettare una nuova visione di se stesso e del mondo. L'uomo creativo è un uomo in grado di realizzare un cambiamento che nasce da un'idea la quale poi porta all'azione. Ma in questo discorso l'ingrediente essenziale è il desiderio, vale a dire l'atteggiamento della persona, la sua passione, il suo coinvolgimento affettivo o, in altre parole, il coraggio di vivere. L'arte del cambiamento psicologico e quindi della trasformazione interiore consiste nel fare appunto della propria vita un'opera d'arte. Ho anche una missione, avendo però chiaro in mente il perché facciamo quello che facciamo. Quando c'è un perché allora siamo motivati e siamo convinti e possiamo raggiungere la nostra missione, cioè il nostro progetto esistenziale che è unico e personale. L'uomo creativo cambia il modo di vedere se stesso e lo fa appunto attraverso una visione creativa che poi diventa azione. Il desiderio di creare se stessi è alla base della psicoterapia perché è ciò che ci trasforma in uomini interiori, cioè uomini psicologici. È ciò che trasforma il nostro potenziale in azione. Come dice qualcuno, chiunque aspetti che tutti i semafori siano verti prima di iniziare ad uscire, non uscirà mai. Allora bisogna uscire e rischiare perché le nostre opportunità sono fatte di incontri e di relazioni con gli altri. Dunque il punto è se noi vogliamo essere chi siamo destinati ad essere, perché per essere noi stessi dobbiamo volerlo e poi dobbiamo anche adoperarci per diventare noi stessi, cioè una persona realizzata e consapevole di se stessa. Dovete sapere che noi siamo responsabili delle idee che escogitiamo per rendere possibili i nostri sogni. Ma c'è un ingrediente essenziale in questo discorso che è, come dicevo prima, il desiderio. Il desiderio è l'ingrediente che trasforma il nostro potenziale in azione. Le azioni poi conducono ai fatti. Come nasce il desiderio? Se lo sono chiesti molti tra filosofi, psicologi, e sono arrivati alla conclusione che il desiderio nasce quando nella nostra vita succede qualcosa che cambia improvvisamente il modo in cui vediamo noi stessi in relazione agli altri. Questo è il classico punto di svolta che ci fa individuare il nostro scopo nella vita, cioè una visione da perseguire. E quindi poi nasce un programma che è fatto da una serie concatenata di idee e se queste idee le proiettiamo nel futuro abbiamo appunto una visione. La visione è importante perché dà una direzione al nostro desiderio. Il desiderio nasce con la visione stessa del futuro. Infatti è in quel preciso momento che iniziamo a desiderare di cambiare noi stessi per trasformare in realtà la visione che abbiamo avuto. Questo è il momento in cui noi passiamo all'azione. L'azione ovviamente è alimentata dal desiderio, ma anche dalla perseveranza e quindi dall'impegno che mettiamo nelle cose. E questo impegno è collegato alla motivazione che ci vincola ad una successione di azioni tese ad un obiettivo specifico. Le persone impegnate sono quelle persone che fanno cose specifiche per ottenere risultati specifici e sono consapevoli di questi risultati che desiderano raggiungere. L'obiettivo finale invece resta la nostra visione. Naturalmente si può fallire, si cade da cavallo, si resta delusi, ma non siamo mai sconfitti se cadiamo, siamo sconfitti solo se restiamo a terra e non ci rialziamo. Il nemico numero uno dei nostri sogni qual è? È la paura. La paura uccide il desiderio e ci rende arrendevoli. C'è un detto per questo momento, non devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare ad essere grande. Questo significa che devi pensare in grande e prima di poter ottenere qualcosa devi adoperarti, devi fare e prima di agire devi immaginare. Questo è già un processo che consiste nel prendersi cura di sé pensando appunto in modo propositivo. I pensieri diventano parole, le parole si traducono in azione, che diventano abitudini, le quali vanno a forgiare il carattere, cioè il nostro stile di vita. Con un carattere adatto possiamo vincere e quindi trovare il successo. Il nostro carattere si forma in base a chi pensiamo di essere, ma la nostra essenza è riposta in un luogo molto intimo del nostro cuore. E per accedervi dobbiamo essere onesti con noi stessi e sopportare la verità di chi siamo. Solo così possiamo guardare al fondo del nostro cuore per integrare gli aspetti scissi di noi stessi, facendo appunto un esame di coscienza che ci permette di scoprire le vere motivazioni di fondo che ci spingono ad agire. Per realizzare questo programma ci vuole dedizione, impegno, volontà, tenendo a mente quali sono i vantaggi. Quando siamo consapevoli del perché stiamo facendo qualcosa, allora vuol dire che comprendiamo il valore delle nostre azioni e questo ci aiuta a restare motivati nei momenti difficili. C'è una storiella che mette in luce il valore dello scopo in relazione a ciò che possiamo fare per gli altri, in quanto essere altruisti è già un indice di benessere e di maturità. E allora questa storiella dice che tre uomini erano occupati nella stessa attività e un passante si fermò e chiese a ciascuno di loro cosa stesse facendo. Il primo disse sto tagliando la pietra. Il secondo disse mi sto guadagnando da vivere. Il terzo disse sto costruendo una cattedrale. La morale di questa famosa storia è che tutti e tre gli uomini erano impegnati nella lavorazione della pietra ma il primo non vedeva alcuno scopo o nessun valore in ciò che stava facendo e probabilmente si annoiava tornando a casa stanco, esausto. Il secondo uomo invece aveva già una prospettiva diversa e quindi un atteggiamento migliore ma il terzo uomo oltre a sapere che si stava guadagnando lo stipendio dava un valore e vedeva uno scopo nel suo lavoro che andava oltre il dato reale in quanto quella chiesa una volta costruita avrebbe dato speranza a tante persone. La morale è che noi dobbiamo trovare il nostro scopo nella vita. Dobbiamo imparare a dare tutto noi stessi perché dare tutto è la vera vittoria. Dare e fare sono l'unico modo per vincere della vita. Anche se la vita prima o poi ti metti al tappeto ma se dai tutto te stesso allora non puoi perdere. Allora hai vinto. Certo può succedere che la nostra stessa esperienza può limitare i nostri sogni e condizionare pesantemente la visione e la motivazione che abbiamo. Per farvi capire meglio questo concetto vi faccio un altro famoso esempio. Se prendiamo una manciata di pulci e le mettiamo in un barattolo e lo chiudiamo con un coperchio le pulci salteranno e si sconteranno con il coperchio adeguando rapidamente il salto in modo da evitare di colpire il coperchio. Bene se noi ad un certo punto togliamo il coperchio notiamo che le pulci non vanno fuori dal barattolo perché hanno ormai regolato il loro salto e sono diventate schiave della loro esperienza. Sono prigioniere nel barattolo anche se potrebbero uscire in qualunque momento dopo la rimozione del coperchio. Morale della favola le persone fanno la stessa cosa. Nella maggior parte dei casi la gente sviluppa l'idea di poter fare soltanto quel tanto che basta e niente di più. Di conseguenza adegua le aspettative e ottiene quello che si aspetta che è però molto di meno delle potenzialità effettive. Poi però succede qualcosa che cambia tutto e queste persone comprendono che possono fare di più. Iniziano ad immaginare e allora acquistano una nuova visione e quindi cambiano. Ma per dispiegare tutte le nostre potenzialità dobbiamo assumerci il rischio di fallire e il rischio di essere feriti. Noi siamo come le navi siamo costruiti per uscire dal porto e solcare il mare aperto. Le nuove opportunità però vanno riconosciute perché sono difficili da vedere e allora non dobbiamo cercare persone che ci diranno solo ciò che noi vogliamo sentirci dire. Dobbiamo piuttosto esercitare il nostro cervello sfidandolo a pensare in modo nuovo e per fare questo dobbiamo aggiungere continuamente nuove informazioni che il cervello potrà poi elaborare e quindi dobbiamo ascoltare, dobbiamo leggere, dobbiamo rapportarci con tutti. Inoltre dobbiamo anche elaborare tutte queste informazioni e applicare alla nostra vita degli obiettivi che ci spingono ad uscire dalla nostra zona di comfort. Quindi dobbiamo fare cose nuove e soprattutto dobbiamo pensare in modo creativo incoraggiando noi stessi. Chi è in grado di pensare in modo creativo? Chi è il genio? E allora cerchiamo di chiarire meglio come ragiona la personalità creativa e apriamo una parentesi. Se per esempio di uno stesso fenomeno psichico ci sono differenti interpretazioni, cosa significa questo? Questo non significa che solo un'interpretazione sia quella giusta perché tutte rappresentano un tentativo di comprendere una certa realtà che non può essere diciamo conosciuta nella sua verità assoluta perché questo tipo di verità è una verità relazionale e allora sarà la nostra sensibilità, la nostra stessa struttura psicologica che ci permetterà di accettare una spiegazione piuttosto che un'altra perché questa spiegazione è più consonante con le nostre disposizioni interne. Se per esempio si seguono cinque lezioni al giorno di psicologia probabilmente si ascolteranno cinque discorsi diversi che corrispondono non tanto ad una obiettiva diversità dei fenomeni, il fenomeno più o meno è sempre quello, quanto corrispondono alla tipologia del relatore che aderisce maggiormente ad una teoria piuttosto che ad un'altra. Ognuno di noi ha un autore letterario preferito, un testo, un film, un pezzo di musica che leggerebbe, vedrebbe ed ascolterebbe mille volte. La passione che una persona prova verso un particolare oggetto significa che un suo problema viene messo in evidenza, viene trattato proprio in quell'oggetto. Pertanto in ogni scelta che compiamo si intromette sempre un po' la nostra dimensione psicologica per cui sentiamo una teoria più vera di un'altra, ma perché è più aderente a noi stessi. E allora l'uomo creativo, il genio, è colui che è capace di vivere questa situazione a livello molto personale che parte però da una sorta di regressione. Freud per esempio sosteneva, e questa è un'osservazione molto importante, che l'uomo sano sa vivere in ozio, cioè riesce a non far nulla. Riesce quindi a regredire ad una fase più infantile. E questo significa che in determinate circostanze questo tipo di uomo, poiché regredisce, non ha bisogno di fare nulla e aspetta soltanto che il tempo passi. Così come se fosse ad uno stadio naturale, di tipo animale. Ora, un tale disporsi nei confronti del mondo, sia del mondo interiore che del mondo esteriore, può diventare produttivo. Infatti proprio questo dice Chris, che si è occupato di questo aspetto della personalità creativa. Chris, a partire dalla nozione freudiana di flessibilità della rimozione, flessibilità della rimozione, ha individuato e studiato la feconda relazione esistente tra attività creativa e la capacità da parte dell'io di controllare la regressione e quindi di controllare il processo primario. Nell'attività creativa, secondo Chris, opererebbe una regressione al servizio dell'io. La regressione in questa visione diventa una possibile apertura sull'esperienza creativa. Riformulando un po' la teoria di Chris potremmo dire che nel processo creativo accade che il processo primario serva all'io. Si tratterà allora di vedere in quali condizioni questo avviene. In Simboli della trasformazione, che è lo scritto che segnò il distacco da Freud, Jung aveva già compreso ed esaminato la relazione tra l'introversione e la regressione della libido con il processo creativo. Il momento della regressione e quindi del fluire della libido al punto di origine è un momento molto pericoloso per Jung. Dov'è il pericolo? Il pericolo sta nel fatto che Jung riformula il processo creativo nella successione di due momenti essenziali. Uno di discesa, il mitema della discesa agli inferi, e uno di ascesa, il ritorno nel mondo della coscienza, quello che Dante cantava come il riveder le stelle. Ora, questi due momenti si assimilano alla contrapposizione tra Dionisiaco e Apollineo, che già Nice aveva evidenziato nell'opera La nascita della tragedia. E questo in campo psicologico corrisponde ad una contrapposizione tra il processo primario e il processo secondario. Il pericolo dov'è? Il pericolo risiede nel fatto che tra il primo e il secondo movimento occorre in un certo senso morire, occorre morire. Quindi la successione diventa ternaria, diventa fatta da tre movimenti, la discesa, la morte simbolica e la rinascita. Quindi possiamo dire che l'espressione artistica presuppone un itinerario di questo tipo. Jung scrive, se la libido si attarda e rimane impigliata nel regno meraviglioso del mondo interiore, nell'abisso diciamo, quindi nell'inconscio, allora per il mondo superiore l'uomo è perso, è un'ombra, è come se fosse morto, ma se la libido riesce a liberarsi e a farsi strada verso l'alto, quindi a risalire dall'abisso verso l'alto, si verifica una sorta di miracolo, cioè la discesa nel mondo sotterraneo sarà stata un tuffo nella fonte della giovinezza, dice Jung, e un nuovo impulso fecondatore risulterà dalla morte apparente. Ora ritorniamo al cosiddetto uomo sano. L'uomo sano, dicevamo, sa vivere nell'ozio. Quando invece siamo psicologicamente sofferenti diventiamo anche insofferenti a livello senso motorio, per cui dobbiamo incessantemente trovarci un'occupazione. Qui stiamo introducendo una visione della civiltà come il risultato di una insoddisfazione ontologica. Se l'uomo fosse stato sempre pago non avrebbe creato nulla. Il mito del paradiso terrestre allude proprio ad una condizione psichica in cui è assente ogni tensione, ogni conflittualità. Nel momento in cui si viene cacciati dal paradiso si entra nel mondo con i propri desideri e le proprie aspirazioni, ma dobbiamo tenere presente che la conflittualità interiore non permette mai di abbandonarsi e quindi ci costringe ad intraprendere sempre qualcosa. Dunque possiamo concludere che la conflittualità è propriamente creatrice di libertà. Come dicevo, la capacità regressiva implica la possibilità di aprirsi al processo primario. Con l'espressione processo primario si vuole intendere il principio libidico ed economico secondo cui funziona il sistema inconscio, una qualità che indica l'incontrollabilità per l'io di determinati contenuti. Se un giorno, per farvi un esempio, andando al lavoro io sbagliassi inspiegabilmente strada e mi trovassi in un ingorgo di traffico per cui sarebbe impossibile per me arrivare in tempo ed espletare il mio compito, si potrebbe ipotizzare che una resistenza inconscia, al di fuori quindi della mia volontà e della mia possibilità di controllo, si sia introdotta tramite un agito boicottando la mia intenzione cosciente. Questa specie di sicario inconscio ha a che fare con il processo primario. Ora, l'atteggiamento creativo, cioè la capacità di vedere il mondo intorno a noi in maniera diversa, consiste proprio nella possibilità di entrare in rapporto con il processo primario, che però è arginato dalle funzioni difensive dell'io, che funziona come un vero e proprio apparato di controllo sul nostro comportamento. Se per esempio osserviamo persone che non stanno bene psicologicamente, persone che, come si diceva, un tempo sono disturbate, il loro comportamento denuncia qualche stranezza. Non è un comportamento che appare adeguato alle circostanze, perché l'io non ha controllato, non ha differito la spinta pulsionale. Naturalmente tutti abbiamo pensieri bizzarri, però in genere l'io che obbedisce al principio di realtà, vaglia continuamente ai nostri impulsi e consente un comportamento adattivo. In questo modo noi viviamo nella civiltà. Ma il punto del nostro discorso è che quando siamo creativi, quando siamo creativi godiamo di una maggiore capacità intuitiva e di una maggiore possibilità di comprensione degli eventi. Per fare un esempio, tutti conosciamo la luna, però solo Leopardi riesce a dare un'immagine così originale ed evocativa della luna. La genialità artistica fa sì che oggetti quotidiani vengano trasfigurati completamente all'interno di una nuova visione, fino ad acquisire un valore simbolico. Questa capacità di trasfigurazione del reale deriva proprio dal processo primario. E grazie a questo bagno nella dimensione onirica si può dipingere ad esempio un mare rosso o un cielo verde, ma non come delle stranezze gratuite, ma come intuizioni di una qualità simbolica dell'oggetto. Il sogno, lo stato di alterazione che si sperimenta nell'ebbrezza da alcol, il comportamento psicotico e via dicendo, sono tutti esempi di cui il processo primario ha preso il sopravvento sull'io. Però a noi interessa analizzare in maniera specifica il modo in cui il processo primario entra in funzione nell'evento creativo. Per fare ancora un altro esempio, nel rapporto analitico, l'alleanza che si crea tra paziente ed analista o terapeuta, permette al paziente di abbandonarsi e quindi di abbandonarsi ad un'esperienza profonda senza sentire un pericolo eccessivo di essere dominato da eventi vissuti come irrazionali. Cioè sente che, quale che sia la situazione che dovrà affrontare, l'analista è in grado di proteggerlo. Il legame analitico ha dunque una funzione nutritiva e protettiva, per cui se il paziente si trovasse in balia dei flutti, come una nave senza nocchiero in un mare in tempesta, potrebbe contare su un intervento di salvataggio. Se il paziente si fida e si affida può raggiungere dei livelli di profondità che rendono appunto possibile il recupero della dimensione creativa. E allora, secondo la prospettiva stadiale, il processo creativo sarebbe caratterizzato da una precisa scansione di fasi o di stadi. Secondo Wallace, il processo creativo si realizzerebbe secondo una scansione di quattro fasi. Una prima fase sarebbe di preparazione, una seconda di incubazione e una terza di illuminazione. La quarta è la fase della verifica. Per Osborne le fasi caratterizzanti il processo creativo sarebbero sette. La sesta fase sarebbe quella della sintesi ed è preceduta da una fase di incubazione che consisterebbe in un riposo dal lavoro che è promosso allo scopo di favorire l'illuminazione. Quindi è una fase di riposo, una fase di stasi. E c'è un aspetto molto interessante che sembra accomunare la maggior parte delle teorie stadiali sulla creatività. L'aver messo in luce la la necessità dell'incubazione. Nell'incubazione noi sembriamo, almeno a livello cosciente, sembriamo inerti, fermi. Si potrebbe dire persino che ozziamo. Nella fase dell'incubazione ozziamo o ozziamo. Eppure è proprio mentre ozziamo e non facciamo nulla che ad un altro livello accade qualcosa. Peerls impiega, per descrivere tutto questo, un'espressione molto suggestiva e ricca di risonanze orientali. Lui dice ritiro nel vuoto fertile. Peerls sostiene che quello che accade nel vuoto fertile corrisponde ad una esperienza schizofrenica in miniatura. L'individuo però, quando è capace di tollerare l'esperienza del vuoto fertile, esperimenta quindi fino in fondo la propria confusione, avrà alla fine una grande sorpresa e vivrà un insight, cioè una illuminazione, come un lampo. Un lampo di percezione e quindi di comprensione. Il ritiro nel vuoto fertile ci riporta alla discesa, gli inferi che dicevamo prima. Quindi alla discesa nel vuoto fertile. E si può pensare anche alla capacità negativa di Kitz, di cui ha parlato Kitz, questo romantico inglese. Oppure si può pensare al processo di incubazione. E allora occorre tollerare la confusione che il ritiro nel vuoto fertile porta. Occorre, come potremmo dire noi oggi, il coraggio dell'apertura e il coraggio dell'abbandono. Allora ci potremmo porre il quesito di come si possa pervenire ad un simile risultato, di come ci si possa predisporre all'esperienza creativa. Rollo May a questo proposito scrive che non possiamo volere la creatività, però possiamo volere abbandonarci ad un incontro con tutta la dedizione e con tutto l'impegno possibile. Dunque, morale del nostro discorso, dobbiamo aprirci al potere creativo del processo primario, che è una dimensione ricca ma caotica e si trova appunto nell'inconscio. Bene, io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata o consulenze telefoniche, per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al 338 16 92 478, specificando il nome e il cognome e gli orari preferiti. Potete visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 300 video e su facebook mi trovate, trovate un gruppo che ho fondato che si chiama psicoterapeuti dell'anima e una pagina che si chiama la mia psicologia. In bocca a lui.